Ciao raga cos'è un surfskate? Te lo spiego in questo video e ti spiego la differenza tra cruiser e skateboard Il surfskate è un particolare tipo di skateboard nato anni fa per far sì che i surfer si potessero allenare quando il mare era piatto. In questo video non ti spiegherò tutte le marche o tutte le particolarità tecniche. Per questo ci saranno altri video che troverai sul canale tra breve Ora vediamo assieme come è fatto un surfskate. Questo è un surfskate. A prima vista sembra un normale cruiser skateboard. La differenza la vedete qua. Questo track è al contrario ed è particolare e quello dietro è molto grosso. Ora perché questo track è fatto così? Perché serve per farti sterzare per farti carvare e per ricordarti il movimento più simile possibile a una tavola da surf. Come ti dicevo ricordati che questo skateboard è nato per far sì che i surfer potessero allenarsi quando le onde erano piatte. La tavola? La tavola è molto simile a un cruiser. Il tail, un leggerissimo no spuntato e il concave. Le ruote sono ruote molto morbide con cuscinetti piuttosto veloci. Questa ruota serve per farti andare su tutte le superfici ruvide o lisce. Questo è un surfskate e questo è un cruiser. Come puoi ben vedere i track davanti sono molto differenti perché come ti spiegavo prima il surfskate ti fa fare delle sterzate molto strette con un ampio raggio di curva. Il cruiser invece avendo un track da skateboard ha una sterzata più larga. Quindi quando usare il surfskate e quando usare il cruiser. Il surfskate ti permette come dicevo di spostarti su qualunque superficie e ti spingi poco grazie alla tecnica del pumping dove i piedi li metti pochissimo per terra. Il cruiser invece è come un normale skateboard. Questo va su qualunque tipo di superficie, copre medio e lunghe distanze e devi mettere giù il piede parecchie volte per spingerti. Il mio consiglio è quello di usare un surfskate se già sei un po' esperto. Se ti vuoi spingere, andare in giro, il surfskate è ottimo, ti diverti perché simula il surf però l'equilibrio all'inizio è un po' più precario rispetto a un cruiser perché il pumping che come dicevo è il sistema che ti serve per spingerti può risultare un po' strano soprattutto se sei un principiante. Il cruiser invece ti permette di spingerti, coprire qualunque distanza però fai solo quello. È meno divertente rispetto a un surfskate. La differenza invece con uno skate normale, uno skate da trick è che con questo ci va in park, ci va in street e fai trick, con un surfskate no. Sono due cose completamente differenti. Se ti vuoi spingere valuta un surfskate o un cruiser, se vuoi fare trick stai su questo skate da trick. Per chi va bene il surfskate, come dicevo prima va bene se ti vuoi allenare per andare in surf, ti vuoi spingere divertendoti perché appunto il pumping imita la carvata del surf. Per chi non va bene il surfskate, non va bene se sei un principiante e salendo sul surfskate la sensazione di equilibrio e stabilità è un po' precaria. Questo perché il surfskate si muove in questo movimento sul track davanti. In questo caso ti consiglio un cruiser perché è più stabile. Raga concludiamo con i consigli su cosa comprare. Questo è un video di massima quindi ci saranno dei video più specifici però ricordate che i marchi più famosi sono Carver, Jiao, Slide, Globe e Ghetto Blaster. Un buon surfskate deve costare almeno almeno 150 euro sotto di quello. È un giocattolo e se non siete sicuri guardate magari un po' in giro chiedete a chi va e vedete che cosa loro usano. La difficoltà nel scegliere un surfskate all'inizio è il fatto che ogni marca ha il suo tipo di track. C'è quello che sterzi in un modo, quello che è più simile al surf e quello che è più simile allo skateboard. Il consiglio mio è questo. Se hai la possibilità di provarli bene, se no chiedi sempre a chi ne sa di più e vedrai che in base a quello che vuoi fare ti aiuteranno. Ok raga spero che il video ti sia stato utile. Se ti è piaciuto metti un like, se non sei ancora iscritto al canale iscriviti qua e fallo vedere un amico. Di sicuro lo aiuterai. Bella!